Il lavoro in agricoltura alla luce degli ultimi sviluppi normativi e di contratto è il tema del convegno organizzato da Confagricoltura Salerno che si terrà negli uffici di Confagricoltura Battipaglia di via Brodolini il 31 gennaio a partire dalle ore 16.30. L'incontro, aperto a tutti gli imprenditori agricoli, è stato promosso grazie al contributo dell'ente bilaterale agricolo territoriale di Confagricoltura Salerno e in collaborazione con l'ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Salerno e l'ispettorato territoriale del lavoro di Salerno. Introdurrà i lavori Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno. Seguiranno i saluti istituzionali del direttore dell'ispettorato territoriale del lavoro di Salerno, Giuseppe Lodato.